ciao ragazzi io sono ricudo ben ritrovato nella seconda parte del video siamo nella seconda parte video in pratica che cos'è ci sono le tartarughe di terra ci sta il cartello vede queste vabbè comunque prima ve lo mostro non so se no ma non si vede perché in pratica stanno nelle casette loro nelle cucciette se vogliamo chiamarle allora in pratica queste tartarughe sono state le introdotte vengono messe qua perché sono in via d'estinzione da quello che ho capito perché perché in pratica qua c'è stata la cosa vede testugini e tartarughe ci sta a tiracola in tutta la differenza poi ve lo spero in un prossimo video quando torno a casa come questi qua vi ho visto di circa 200 mila anni fa poi sono 70 mila 65 milioni e oggi ci sono uno due tre quattro cinque tartarughe di cui queste due sono si stanno accoppiando le altre tre stanno intanto nelle casette ma perché in pratica da loro secondo me sono notturni butto un'ipotesi non so perché tipo sono notturni no essendo notturni che succede deve evitare il calore è la prima cosa e poi perché forse sono notturni loro perché è proprio nella loro natura che sono notturni così è come la penso io però potresti vedere che mi sbaglio eh comunque noi ci vediamo nella terza parte del video ciao ragazzi poi vi racconto specie per specie noi ci vediamo al prossimo video ciao